Davide, ma la maggior parte di gente non gliene frega nulla, vanno lì perché portano i figli. Ragazzi mi sto addormentando, guarda questa squadra. Patrick su chiesa. La cazza difesa o no? Non se lo aspetta la difesa. Lucate, è il must be. La Juve ha il secondo tiro in porta? La Lazio ha ancora zero tiro in porta. Dico che ha segnato Glauvi, ha segnato Chiesa, domani nevica.